Il recipiente a pressione del reattore Walong-1 è pronto per essere installato nella centrale nucleare di Fuching, nell'est della Cina, nella provincia di Fujian. Si tratta di una parte non sostituibile della centrale nucleare ed è fondamentale per garantire la sicurezza. Il nucleare è uno dei pilastri della politica energetica cinese. Pechino vuole competere con Stati Uniti, Francia e Russia come esportatore di tecnologia atomica. Il reattore Walong-1 è un progetto di terza generazione sviluppato a livello nazionale da due aziende statali cinesi.